E' stata avviata un'inchiesta interna all'AS di Rimini sulle procedure riguardo al soccorso di un uomo di 79 anni, creduto morto ma ancora vivo all'arrivo del medico legale. L'anziano si era sparato un colpo alla testa nella sua abitazione di San Vito, frazione di Rimini. Quando è arrivato il 118, secondo i sanitari intervenuti per soccorralo, il 79enne era già deceduto, ma quando è arrivato il medico legale è stato costretto a far tornare l'ambulanza indietro perché ha constatato che l'uomo respirava ancora. Nonostante il secondo intervento di soccorso da parte dei sanitari del 118, l'anziano non ce l'ha fatta. Per questo motivo l'azienda sanitaria locale ha aperto un'inchiesta interna per verificare che tutte le procedure da parte del personale sanitario siano state rispettate. Il medico del 118 nel suo intervento aveva accertato la presenza di gravi lesioni cerebrali definite irreversibili e di conseguenza il decesso del paziente ed ha chiamato così il medico legale, il quale però ha constatato che il 79enne era ancora vivo ed ha richiamato indietro l'ambulanza, ma il secondo soccorso si è rivelato inutile perché l'anziano è deceduto prima che venisse caricato per essere trasportato all'ospedale.